Pur non potendoci essere, aderisco convintamente all'iniziativa da voi promossa, che mi auguro molto partecipata. Il tema dell'informazione mi è stato sempre a cuore, mi è stato a cuore quando facevo il magistrato e vedevo giornalisti coraggiosi rischiare la propria vita per un euro a pezzo quando lavoravo in Calabria. Ho visto giornalisti piegati al potere o megafono del regime e oggi anche da sindaco di una città difficile so quanto è importante un'informazione indipendente prima ancora che plurale, perché non ci può essere pluralismo se non c'è indipendenza dell'informazione. Dobbiamo liberare l'informazione, il servizio pubblico dalla lottizzazione partitocratica, dalla lottizzazione dei poteri forti, espressione certe volte attraverso il colletto bianco dello stesso sistema partitocratico, ma non può essere una riforma giusta la privatizzazione della RAI, non può passare il messaggio, siccome il pubblico non funziona privatizziamo, il pubblico non funziona puliamo il pubblico da chi vuol mettere le mani sull'informazione pubblica e quindi controllare le coscienze indirizzare i pensieri e modificare in questo modo subito anche la vita sociale e democratica quindi una lotta senza se senza ma per l'informazione pubblica, per il servizio pubblico, per un'informazione indipendente plurale.